Anche oggi domenica 10 dicembre ore 15.40 è sempre un buon momento per fare un trattamento pre-invernale con BioAxpert come vedete siamo con Giuseppe, stiamo trattando urivi questo è un ettaro e mezzo misto ci sono prevalentemente urivi però poi ci sono anche ciliegie, mandorle quindi mi raccomando facciamo il pre-invernale che è un ottimo trattamento di protezione per le eventuali gelate a presto e anche in questo appezzamento avremo cibo senza residui, pulito complimenti a Giuseppe che si accinge a fare una ricoltura pulita buona giornata